161 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, l'1,4% dei 10.958 test processati, di cui 1.376 molecolari e 9.582 antigenici. Il più anziano tra i contagiati a 96 anni, il più piccolo, è venuto al mondo da solamente un mese. Il bilancio dei pazienti deceduti registra tre nuovi casi e sale a 1.470, di età compresa tra 74 e 97 anni, uno in provincia di Pescara, uno in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Teramo. Del totale odierno un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla ASL. 209 sono invece guariti. In Abruzzo, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, i positivi sono attualmente 10.436, meno 51 rispetto a ieri. 401 pazienti, più 18 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 47 in terapia intensiva, più uno rispetto a ieri, con quattro nuovi ricoveri, mentre gli altri 9.988, meno 70 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. La realtà è che l'ospedale Covid è completamente pieno. Stamattina abbiamo 20 malati in rianimazione e in tutti gli altri settori, incluso il settore convenzionato presso la clinica Spatocco, dove mandiamo i pazienti in condizioni di miglioramento, è completamente pieno. Quindi ancora oggi le entrate e le uscite si bilanciano senza nessuna riduzione delle degenze. Gli esperti invitano a non abbassare la guardia, anche qualora ci si fosse sottoposti a vaccino, poiché non è ancora chiaro se i vaccinati possano comunque infettarsi e diffondere il virus. Abbiamo la necessità di consolidare le evidenze che il vaccino riduca la circolazione e sicuramente con il tasso attuale il suo contributo è ancora modesto, quindi tutti, anche noi operatori sanitari, dobbiamo mantenere un altissimo livello di guardia per evitare la trasmissione secondaria.